Signor Presidente Sassoli, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Signor Sindaco, autorità civili, religiose e militari, un saluto a tutti. A nome della comunità ebraica di Bologna, di cui sono rabbino capo, il mio personale, i più affettuosi saluti. Lasciatemi anche a me ringraziare il professor Alberto Melloni per la sua grande volontà, per come ha voluto organizzare questo incontro in questa meravigliosa città. Una città dove gli ebrei antichi hanno voluto vedere nel suo nome un accenno a quella che è l'identità di essa, Bo Lan Ya. Qui abita Dio, Bologna. E' per questo che la comunità ebraica è grata e riconoscente per tutti quelli che sono i lavori di dialogo, di incontri interreligiosi. Ma dialogo non significa accettazione cieca dell'altro, significa conoscenza, significa studio, significa discussione leale e onesta, anche delle diversità. Il dialogo non si combatte, il dialogo è qualcosa che ci si arriva gradualmente. Si è parlato di guarigione, per guarire bisogna curarsi. Il dialogo è la cura alla guarigione. Si racconta nella Mishnah, la legge orale, che la tenda di Abramo era aperta ai quattro lati, per poter dare maggiore ospitalità a tutti i viandanti che avessero avuto la necessità di soffermarsi per rifocillarsi dalla strada, senza mai indugiare ad entrare in essa. Beruchim Abbaim, benvenuti a tutti voi, nel nome dell'unico Dio, lo stesso Dio di Abramo, che ha avuto il merito di essere definito da Dio stesso, Av Ammon Goim, padre di una moltitudine di nazioni. Gli ebrei vivono a Bologna fin dai primi secoli dell'era volgare, durante i quali hanno fortemente voluto fondare e intrecciare le loro radici nel tessuto cittadino. Senza nessuna remora possiamo affermare che la religione ebraica ed i suoi appartenenti siano i più vecchi abitanti della città, così come gli ebrei italiani sono considerati gli italiani più vecchi d'Italia. Essere monoteisti, secondo la concezione ebraica, non vuole esprimere soltanto la condizione religiosa che si manifesta in una sinagoga, in una chiesa o in una moschea, ma significa anche perseguire quegli ideali che sono fondamentali per il comportamento degno degli esseri umani. Un comportamento che si fonda sulla libertà, la democrazia e che indica rispetto all'uomo in generale e ai suoi diritti ad una vita libera e democratica. Nella sua storia plurimillenaria il popolo ebraico, pur avendo origini dalla terra di Israele, attraverso continue diaspori e persecuzioni, ha sempre cercato di integrare la propria vita e le proprie tradizioni a quelle delle nazioni nelle quali è stato costretto a dimorare, cercando di adoperarsi in ogni modo per il bene di esse. L'inizio della storia del nostro popolo in Italia è datato all'incirca attorno al 200 avanti l'era volgare, quando i primi ebrei provenienti da Gerusalemme, prima ancora della distruzione del Tempio, si impiantarono a Roma, dove fondarono una comunità che mai più hanno abbandonato. Essi hanno sempre dato dimostrazione di un affetto particolare e nudrito per questo Paese, partecipando in ogni modo alle varie lotte per la difesa dei diritti, dei suoi cittadini e per l'ottenimento della libertà. Durante la loro permanenza, fino al 1555, anno fatitico dell'istituzione dei Ghetti, parteciparono alla vita sociale della nostra città, Bologna, anche e soprattutto dal punto di vista culturale e accademico, dove si è assistito, fra le varie cose, all'attività in seno all'università più antica d'Europa. Per ricordarne uno fra i tanti, Servadio Ovadias Forno, vissuto a Bologna agli inizi del Cinquecento, esegeta biblico conosciuto e studiato ancora oggi nelle più grandi accademie rabbiniche di tutto il mondo, ma conosciuto anche per la sua professione di medico e per questo chiamato in ambito universitario Abir Arofeim, il principe dei medici. Gli ebrei, come è noto, hanno subito numerose e terribili persecuzioni, ma hanno anche tratto da queste l'insegnamento per superare quei dolorosi momenti, dedicandosi con il loro nobile comportamento ad essere da esempio per tutti gli altri. Alla fine del Cinquecento furono cacciati da Bologna, ma mai la dimenticarono e con l'emancipazione ottenuta nel 1861, dopo oltre tre secoli, non persero l'occasione per tornare nuovamente a viverci e a lavorarci nel nome della lotta per il rispetto dei diritti di tutte le minoranze religiose ed etniche. Numerosi professori ebrei ed allievi pullulavano l'università cittadina, fin tanto che le famigerate lezzi razziali vennero promulgate e da distanza di secoli furono nuovamente discriminati fino ad essere cacciati dai loro posti di lavoro. Infine, con la Shoah vennero deportati nei campi di sterminio nazisti, da dove un terzo della popolazione ebraica di questa città non fece mai più ritorno. Il nostro destino, però, è quello di essere sempre di buon esempio. Per gli altri e nella nostra tradizione vi è il sacrosanto dovere di dedicarsi al bene del prossimo, qualsiasi sia il credo religioso. Abbiamo da tre giorni trascorso la solennità religiosa del Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Siamo nell'anno 5782, secondo la tradizione rabbinica, dalla comparsa del primo uomo sulla terra. E questa è una solennità, insieme a quella prossima dello Yom Kippur, che inizierà mercoledì sera e sarà tutto giovedì, il giorno dell'espiazione, ad avere un valore non prettamente ebraico, bensì universale. Si celebra infatti l'alto valore dell'essere umano in seno alla creazione del mondo. Nelle nostre sinagoghe si prega l'Eterno per la pace, il benessere, la salute e la vita di ogni essere, non solo degli esseri, degli ebrei, non solo degli esseri umani, ma di tutti gli esseri che vivono su questo mondo. Nella nostra storia l'abbiamo sempre incoraggiato ed esortato al perseguimento del benessere e alla vita buona per ognuno, combattendo sempre per la libertà, la difesa dei diritti civili e per la possibilità di esprimere le proprie tradizioni. Questo è stato ed è ciò che gli ebrei in Italia e in ogni parte della diaspora, dove vivono ormai da millenni, hanno voluto trasmettere alla società che li ha ospitati. Questo è ciò che tutti coloro che credono nei valori positivi dell'umanità e danno fiducia negli uomini hanno il compito di attuare. Fu chiesto ad un famoso maestro del Talmud quale fosse l'elemento fondamentale per essere ebrei ed egli con estrema semplicità rispose non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Il resto è commento, va e studia. La nostra speranza è che il mondo futuro, le nuove generazioni, possano vedere nel bene del prossimo la cosa più cara, che un uomo possa attuare nella sua vita e prodigarsi per un mondo migliore, dove vi sia amore ma soprattutto rispetto per chi ci circonda. Grazie a tutti per la pazienza.